e separati cazzo è e ma mi scusi un attimo ma innanzitutto quanto tempo ci vuole da prato arrivare a firenze un quarto d'ora simon quarto d'ora che devi fare e ma mi scusi un attimo ma io non so perché noi siamo di milano ma a firenze c'è anche l'ecopas e ho capito ma se il polio stanno accesa la multa che la paga la paga lei ci ha scamato io francesco mi ci ha scamato